Siamo qui con due Rigbisti Del rugby faenza Non sembra Ok va bene Siamo quasi rigbisti Uno è imparentato con me Indovinate qual è il mio parente Nuovo gioco, indovina il parente Misterioso Beh lo fanno già Indovina tipo qualcosa E niente vai Se volete presentare un attimo Due cosine, nome e cognome Io sono Pietro Sancisi 23 anni Di faenza Gioco a rugby da quando ne ho 13 Quindi sono Il decimo anno che gioco a rugby Purtroppo non ho potuto iniziare prima Per ovvi motivi a faenza non c'era la squadra Era comunque uno sport che non si conosceva Quanto altro Ho fatto un sacco di anni di calcio Poi a un certo punto Mio padre mi fa Ehi Pietro non è che vuoi provare a fare un allenamento di rugby No babbo non voglio Non voglio Dai fallo un allenamento Facciamo sto allenamento E da lì non l'ho più smesso Quindi è il E il tuo babbo che ti ha È il mio babbo che mi ha portato a giocare a rugby E tu non ne avevi di andare a giocare a rugby No non ne avevo Però sai il calcio C'hai gli amici Ti diverti Però era un po' palloso A rugby non ce li hai gli amici Niente Duccio Duccio Vassura Duccio Vassura Uguale identico a Sancho 23 anni Ho iniziato a giocare a rugby A 14 O comunque giù di lì Sono 11 anni E niente inizio a giocare a rugby Perché avevo Io facevo il gioco a faenza Quindi era un multisport Per ragazzi Dopo avevo superato l'età C'era il rugby o il gioco a faenza? E facevamo C'erano queste palle ovali Si picchiavano Lo risultato era botto Era un botto divertente Era un botto divertente Quando lo facevamo E io con altri due amici A Giovanni E Ho detto Vai andiamo a giocare a rugby Vai va bene Loro fanno un allenamento Io vado tanto a vederli Perché mi ricordo il motivo Duccio era molto timido Quando ha iniziato a giocare a rugby Bisogna dirlo Dopo tutti gli altri risvolti Forse li diremo più avanti Il rugby dici che gli ha fatto bene Assolutamente Giusto un pochino Tempra un pelino Abbastanza Dopo ho visto l'allenamento Ho detto No mamma Devo andarci anch'io per forza Ci sono andato Per forza Sono tornato in un restato Vabbè Se mi giocate assieme Da tutti questi anni Sempre in squadra assieme Dal primo giorno Sì È vero È vero Quindi non ne potete più praticamente Cioè No alla fine abbiamo imparato A volerci bene Ah ok C'è voluto tanto Ci sono voluto Cos'è? In realtà è la distanza Tra i ruoli Che ci tiene C'è distanza proprio fisica Nel campo? Sì Più o meno Però dai Però ci vogliamo bene lo stesso Poi siamo due Che si sbattono parecchi Ah ok Quindi ci tenete Tutte e due Quindi C'è le crisi di nervoso Ce le facciamo a vicenda C'è la prima lui Poi dopo Mi prendo la camera di conseguenza Dai ci fate un po' di Rugby 1-0-1 Per principianti Cioè Campo Regole Com'è Parto io Allora Campo è grande Più o meno Con quello da calcio Diviso per linee orizzontali Come quello da football Per esempio Ci sono i pali Sulle linee di meta Spero che ognuno di voi Sappia cosa sia Fai un mimo Di cosa sono i pali Bali è una È una H È un H così Al centro Della linea di meta L'obiettivo della squadra È quello di schiacciare La palla in meta In poche parole È quello di avanzare È un gioco di avanzamento Quindi sono due squadre Che in parole povere Si possono disporre Su due linee E avanzano Quindi avanti e indietro L'importante È mantenere Il possesso della palla E avanzare Finché non arrivi Nell'area avversaria E schiacci la meta La palla Si può passare Solo indietro Ma si può Mannaggia Ma bisogna correre In avanti È un po' Un contrasenso Come fai ad andare avanti Se la palla va solo indietro Scusa le gambe Io quando provavo Tipo le superiori Ogni tanto Facciamo giocare Le rugby Devo tirarle indietro Non mi veniva È terribile Sì 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 Ma è questo effetto Quanto ci avete messo A abituarvi Ma in realtà Col fatto che Eravano tutti scarsi Quindi non ti accorgevi Di quello bravo Quindi sembrava Di saper già fare Però quando vedi Qualcuno di nuovo Arrivare E gli spieghi Questa regola qui Fa fatica Ci mette un paio Di allenamenti Prima di coordinarsi Corsi in avanti E passaggi indietro Perché è proprio Una cosa Che non ti viene naturale Poi devi anche guardare Cioè nel senso Perché tu corri in avanti E quindi Devi essere attento Cosa succede dietro Comunque di te Però di solito È più di fianco Che dietro Sì è un dietro Di fianco Sì esatto Utilizzi molto La vista Totale Periferica Cioè devi vedere Davanti Cosa succede Perché c'è l'avversario E a fianco E dietro Per sapere Per sapere Dove sono i compagni E dopo Lì entra in gioco La comunicazione Tutte queste cose qua Beh quello dopo può essere Immagino che molti Gli spettatori Siano Conoscono il calcio Per esempio Come è ovvio che sia Anche nel calcio La comunicazione è fondamentale Quando il tuo compagno Può essere leggermente Dietro di fianco a te Uggi la vista periferica E quando lo ascolti Uguale nel regno Beh ma anche il calcio Comunque adesso Nel senso Uno deve anche sempre Stare attento Se c'è l'uomo Se sta arrivando No Il passaggio Il equilibrio Comunque alla fine Così Però per me è una cosa Un po' meno attiva Cioè qui invece è proprio Il lancio Poi c'è uno che ti arriva addosso Esatto Soprattutto è quello Che c'hai l'avversario Che ti può arrivare Ai duemila Sulle costole E devi stare comunque Sul pezzo Però regola importantissima Che non ho detto È che A differenza del football Non puoi placare Chi non ha la palla Quindi Tu puoi Portare a terra Prendere Schiacciare Fare quello che vuoi Più o meno Solo A chi ha la palla Se tu non hai la palla Sei impaccabile Più o meno Secondo me Nel football È a metà Forse non è che Proprio puoi tirare giù La gente Normalmente Forse solo alcuni Possono fare cose Però Non mi ricordo esattamente Magari sono americani Per lo spettacolo No no però è vero Per tirare giù uno a casa C'è una cosa In America tu parti Nel football americano Tu parti in linea C'è il quarterback Dietro la linea E quelli della linea Si picchiano A prescindere Dalla palla o no Quindi è molto diverso Come concetto Noi per il Non picchiare Però il contatto fisico Oltre Sull'uomo con la palla Chiaramente ce l'hai In altre Diverse situazioni di gioco Ogni volta che appunto Avviene un placcaggio Può crearsi Una rack Quindi una contesa Della palla E lì Sì Chi non ha la palla In un determinato Nel gate Si chiama Quindi nell'uomo Ci si contende Ci si spinge uno contro l'altro E lì è forse la fase Però è una situazione È la situazione In realtà è la situazione classica Cioè quando avviene il placcaggio C'è l'uomo che va a terra E la contesa del pallone In quanto il pallone In quanto l'uomo Essendo a terra Non può avere controllo del pallone Se non quello di tenere una manina Per tenere la terra Regole complicatissime Che è difficile Sono difficile da spiegare Quando hai la palla E sei in campo Immagino così da parlare Ma no poi immagino Che siano cose Che non si imparano Neanche Esatto No sì Sicuramente sono Uno bisogna vederlo Magari anche viverlo Quando ci passi E quando ci passi in mezzo La regola Ti rimane Esatto Comunque oltre a queste contese di gioco Quindi abbiamo detto Il placcaggio Che vabbè più o meno Lo conosciamo tutti Magari qualche video Qualche cosa L'abbiamo visto E questa contesa di gioco Che si chiama Rack Che ha detto Duccio adesso Poi ci sono le mischie Che è il classico La classica scena famosa Cioè sono la squadra Una parte La squadra dell'altra Che si uniscono E iniziano a spingere Quella è proprio Una contesa Forza fisica E tecnica E devi battere Fisicamente l'avversario Io personalmente Che gioco Nei regni Ci hanno divisi Tre quarti di mischia Sono due Due reparti diversi Ok In questo caso Fanno quelli di mischia Sono quelli più grossi Più alti Più forti Solitamente A volte sono anche Un po' più brutti Statisticamente È vero Poi ci sono i tre quarti Invece che sono quelli Agili Veloci Più sottili Tendenzialmente Sempre I più sottili Bellissimo Esatto Tipo io Che sono più sottile Gioco come tre quarti Io che sono più Invece Grosso Gioco con gli avanti È ovvio È normale Lucio è un casanomalo Ed è sottile Ma giochi in mischia Purtroppo No vabbè No non è vero Cioè Tante volte Inizialmente Chi ha Delle Capacità fisiche Minori Viene buttato Subito in mischi In quanto non devi correre Tenere la palla in mano Inizialmente Dico parlo in giovanili E quindi Lasci in un ruolo E poi Ti ci affezioni Ne sei più o meno capace E dopo ti resti È tipo a calcio Che non sai Calciare la palla Ti mettono in difesa Perché sei lì Fai massa Fai gruppo Oppure punta Perché toghi meno palle Possibili Ah lo mettono davanti Ah ma tanto Non ho mai giocato a calcio Però non c'è una cosa Tipo Adesso voi Voi magari Avete iniziato Già da più grandi Sì Però non so C'è una cosa Non so Ideale Ok i bambini Iniziano a giocare a calcio Cosa vuoi fare? Attaccante Voglio fare gol Cioè nel senso C'è questa cosa magari Nel rugby Un ruolo Nel senso Da noi Le varie categorie Non è subito Adesso Non conosco troppissimo Il calcio Sono sincero Da noi ci sono Tutte le varie categorie Che partano dal mini rugby Che è un gioco semplice Ovvero in cui C'è soltanto Il Il correre Il passare la palla Il calciarla al massimo Ma quasi mai viene fatto Con il placcaggio E fine Passando nelle giovanili Quindi se adesso Da quest'anno È cambiato C'è un altro nome Ma comunque L'under 13 È un primo passaggio In cui si creano Delle mischie 3 contro 3 Ad esempio Poi dopo c'è L'under 15 Invece che sono 5 contro 6 contro 6 Mischia è sempre Mischia è sempre Mischia è sempre La contesa Di cui parlavo prima Per essere chiari 6 contro 6 E per poi arrivare Nelle categorie superiori Che si aggiunge tutto quanto La tush Che è la rimessa laterale La famosa rimessa laterale Quella dove si alza Si alza in aria Che poi lo dovrei spiegare Comunque Per rispondere Alla domanda di Amleto Sì volevo arrivare a questo Volevo arrivare a questo Scusate Nel senso Se tu parti da piccolo Come dicevi te Che all'inizio C'è la scuola calcio Nel mini rugby Non c'è un vero e proprio ruolo Ok È un Prendi e giochi Successivamente Inizia a integrare Quali sono le tue capacità migliori Se tu parti da piccolo E allora Vieni inserito In tutti i ruoli Magari c'è il mediano Che è quello che gestisce la palla Che distribuisce la palla Dopo si C'è la mediano Anche ti dico Anche nel calcio Si ovviamente parla di calcio Perché ho giocato a quello Tutta la vita Però C'è poi Uno quando matura Col tempo Apprezza anche Vede tutto il resto Che c'è Però magari da piccolo Sai c'è quella Proprio il calcio Ha quel fascino Del gol Dell'esultare Sai la squadra Le persone che ti acclamano Non so magari Nel rugby non c'è questa cosa Non so magari O con la meta O magari la mischia Fa più bello Cioè magari quello che Cioè non so Non c'è una cosa così Un po' È simile Diciamo che Noi personalmente L'abbiamo vissuto meno Perché in Italia C'è proprio una cultura Del rugby Più piccola Rispetto a chi è Nel paese angolo sassone Per esempio Però magari Se nasci In Inghilterra O in Irlanda O in Galles Sicuramente Tu cresci Magari vedendo I top scorer Del L'era nazionale I top club Che fanno le mete Di solito sono Le ali O magari i centri Quelli comunque Fanno più meta Magari possono essere Più gli idoli Di piccoli Sicuramente Però c'è anche Però c'è meno Secondo me ha un peso minore Rispetto a quello Dell'attaccante O il fascino minore Rispetto a quello Dell'attaccante Nel calcio Sicuramente Devo dire la verità Cioè Nel rugby C'è anche un po' Il fascino Dell'invece L'uomo grosso C'è la contesa C'è il contatto fisico Mi chiedevo più se fosse La meta O quello grosso Che proprio non lo tiri giù Dipende Dipende Adesso Io sinceramente Da piccolo Quando ho iniziato Ero più affascinato Appunto Al Cavolo Entro E spacco tutto Poi chiaramente Non ci riuscivo E non ci riesco nemmeno adesso Pazzetto questa cosa Confermo Cosa che Sancio Invece è bravissimo a fare Io sono uno dei leggeri Però posso E quindi sì Cioè Ognuno magari può avere Diversi obiettivi Diversi miti Ecco Quello di giocare un ruolo Magari farlo avanti Grandissimo Grossissimo Entra Spacca tutto Sempre parlando In termini di bambini Oppure Quello Cavolo Quello è fortissimo Perché è veramente veloce E va a fare tutte le mete lui Che siamo in tema Di quelli grossi e forti Ovviamente Sì Hanno il loro fascino Però In ogni caso Una squadra di rugby Generalmente È composta È molto variegata Cioè Ci gioca Sia quello Il bestione gigante Che magari quello piccolo È agile e imprendibile Perché alla fine Anche la sua funzione È quello lì Perché il bestione Di due metri Per 120 kg Che non corre No C'è anche quello che corre No no Dico però Quello che non Cioè può essere grosso Ma non corri Magari non prende Quello piccolino Quindi comunque In ogni caso Il bello di questo sport È anche che Nonostante sia uno sport fisico È uno sport per tutte le stazze Poi sicuramente La dote fisica È molto importante Magari è più determinante Che in altri sport Ci vuole la tecnica Ma con la fisica È sicuramente determinante È tantissimo Sia velocità Accelerazione Beh sicuro Ma è tantissimo allenamento Tanto Tantissimo allenamento Purtroppo sì Cioè tipo Magari a calcio Puoi giocare un po' in ciabatte Fai il tuo allenamento Settimanale I tuoi tuoi allenamenti Giochi in una categoria Relativa Anche questa Medio-bassa Beh c'è anche più spazi Probabilmente nel calcio C'è un po' meno Già Al livello che è disponibile Quanti giocatori? Quanti giocatori? Non mi ricordo Guardi qui si giochi in 15 E ti puoi portare Fino a 8 giocatori In panchina Poi dipende Dalle categorie Esatto Tipo in serie C Sono solo 7 In serie A O in serie B No in serie A Credo Ma non sono sicurissimi Sono 8 Però comunque Non è poco Tendenzialmente In panchina Ti porti Due piloni di riserva Le tre prime linee Che sono Le tre persone davanti Alla mischia Quelle che Prima dell'ingaggio Si legano L'una con l'altra E loro sono Bassi Grossi Tammuni Gattivi Sì Sono dei pilastri Noi si chiamano piloni Per un motivo Cosa è che Ah si Poi dopo ti porti Una seconda linea O una terza E poi Che sono Tutti gli altri E poi un pari di veloci Da cambiare Da mandare Uno è stancato Uno è spaccato Perché tanto Alla fine Però E ad esempio I cambi E quanti Ce ne sono Ecco Nel rugby Puoi fare Tutti i cambi Disponibili Che hai Quindi se hai 8 giocatori In panchina Puoi cambiarle Tutti 8 E poi ci sono Delle regole Particolari Per tutelare La salute Dei giocatori Queste sono state Introdotte Anche negli anni Perché È un sport Comunque molto fisico Ci sono Per esempio I piloni Quelli che mi hanno Citato prima Sono una categoria Un po' tutelata Perché loro Se danno Se danno Veramente tanto E per cui Loro hanno Possibilità In caso di infortunio Anche se sono Scesi Di risalire Per dare il cambio A un compagno Che si è fatto male E solo loro Possono fare Questa cosa In genere Sono quelli che In realtà Vai sempre a cambiare Durante la partita Perché Perché si distruggono Perché li sfrutti Al cento per cento Per quei Quei minuti Che hanno Quei Metà tempo O di più E poi dopo Lo cambi Perché è così Sono anche Anatomicamente Un po' Fatti per durare Solo quei cinquanta Sessanta minuti Però quei cinquanta Sessanta minuti Quando ti prendono Ti prendono Esatto Quanto dura la partita Che adesso La partita dura Ottanta minuti Sono due minuti Due tempi da quaranta E' effettivo E' effettivo Il tempo è Praticamente Totalmente effettivo Quindi l'arbitro Alle pause Stop al tempo E non ci sono I recuperi Peso Però durante il calcio Per chi non lo sa Quando Fai una meta Dopo devi Piazzare In mezzo ai pali Sono quella famosa H di cui ho parlato prima E buttare la palla Questa palla qui Esatto Con quella piazzola lì Devi calciarla All'interno dei pali E Quello lì E' considerato Tempo di gioco Quindi nonostante Tu ti possa prendere Un minuto e mezzo Ai fino a 90 secondi Di tempo Quello è tempo di gioco Il resto è tutto Tempo di gioco E invece i punti I punti sono 5 se fai una meta 2 punti Se la trasformi Ovvero Di cui ti ho parlato Quando fai una meta Hai la possibilità Di fare un calcio Dall'inome inglese Della meta Try Provare Hai la possibilità Di fare un calcio Che puoi aggiungere Due punti Ai 5 Quindi il calcio Lo puoi fare Solo dopo la meta Questi due punti Sì Cioè per fare punti Dico No Ci sono altre due opzioni Per il calcio Una Per fare punti Sempre Uno È per una punizione Quando hai una punizione Di prima Di prima Di seconda Vabbè Punizione è sempre per un fallo Come valgono tre punti Invece Un calcio particolare Che si può fare in gioco aperto Che si chiama drop Ovvero Semplicemente Invece di utilizzare la piazzola Si fa Prima rimbalzare la palla a terra E poi calciarla E si va sempre dentro i pali Insomma tre punti È un tiro di controbalzo Però quello lo puoi fare sempre C'è chiunque lo puoi fare Quello lo puoi fare sempre in gioco Il calcio Il calcio Il calcio Il calcio Il calcio Il calcio Il controbalzo No è Ma è raro da vedere Esatto Molto raro da vedere Agli alti livelli Raramente Però il basso livello Vedi veramente E quello lì vale tre Come quello di punizione Esatto Beh ma invece Ovviamente Uno immagino Magari lo guarda Dice Cioè Il fallo Quando è che c'è Vedi Tutte queste persone Cerchiamo di essere Sinnesatici Il fallo Cioè come si fa Allora il fallo Ci possono essere Più o meno Tre tipi di falli Oltre Oltre Come si chiama Oltre Quello della punizione Il tiro Fuori del campo Dai Ok Il fallo può essere Il classico è l'avanti L'avanti vuol dire che Il passaggio in avanti La palla cade in avanti Ok E lì si fa la mischia Ok La mischia di solito si fa Per avanti Per altre cose Anche però Non stiamo a specificarle Poi dopo ci sono Posso assicurare che Nelle nostre categorie Ce ne sono tanti di avanti E per quello che Sono cambiati anche spesso Poi vengono cambiati spesso Anche in altri I piloni sono quelli che fanno Molta mischia Eh sì Cioè tutti gli altri Che loro sono proprio davanti Tanti avanti Piloni di queste categorie Vengono sfruttati Ogni avanti è una mischia Ogni mischia è fatica E ogni fatica è meno energie Quindi dopo 50 minuti Ciao grazie Può avere le palle E poi dopo ci sono le punizioni Di prima e di seconda Le classiche in realtà Sono quelle di prima Di seconda ce ne sono poche poche Eh di prima Sono che ne so Un placcaggio alto Un fuorigioco Un Mani in rack Ce ne sono infinite Tantissime regole Oppure può essere Dalla mischia Se in mischia Viene effettuato un fallo Può essere un calcio Di seconda O di prima Tutto dipende Sono Spieghiamo un attimo Come funziona Il placcaggio alto Perché noi abbiamo detto Che ce ne possiamo andare Di santa ragione Ma in realtà Ci sono delle regole Sul placcaggio Troppe regole Soprattutto anche per tutelare Appunto la salute Di tutti quanti Il placcaggio È valido Quando è sotto La linea delle spalle Se io prendo Collo sopra È placcaggio alto E quindi fallo Altra cosa Non posso Dare cazzotti Sbracciate Così Devo chiuderlo Il placcaggio Chiuderlo vuol dire Che io lo abbraccio E lo porto giù Molto semplicemente Però glielo puoi dare Veramente forte Glielo puoi far sentire Ma più che altro Ecco ad esempio Gli arbitri Adesso Poi dipende Penso che a livelli alti Al vostro livello Ci sia anche magari Più o meno arbitri Oppure Cioè nel senso Perché ad esempio Questi placcaggi Magari se l'arbitro È a 50 metri Non ti vede No no L'arbitro deve seguire il gioco Quindi ogni tanto Ne prende anche lui In base c'è un arbitro Non mi ricordo Se è già Ci sono tre arbitri C'è l'arbitro E poi dopo ci sono Gli arbitri di linea Che sono due E basta Queste qui sono Tutte le categorie alte Anche la serie B Ce l'hanno Gli arbitri di linea Non mi ricordo E poi c'è il TMO Che è l'equivalente del VAR Che nel rugby È stata introdotta Una decina di anni fa Probabilmente Sono più avanti Sì Sono più avanti E si vede Che sono tanti anni Che la stanno usando E la stanno usare meglio Ma infatti Sono sicuro Che anche nel calcio Con la VAR Prima o poi Si adatteranno Cioè inizieranno An arrivare anche Generazioni di arbitri Che crescono Con il VAR Con il VAR Quindi è un po' più semplice Anche magari Sicuramente Certe dinamiche Poi è molto A meno da noi È molto Se lo guardano sempre Ne ha re Si 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 TMO E ogni C'è sull'olta Però avete il tempo effettivo Però avete il tempo effettivo Però avete il tempo effettivo Quindi stoppa il tempo E guarda Infatti per me Anche con la VAR Adesso sta parlando Nel calcio di tempo effettivo Da 60 minuti Le partite Perché Ah perché nel calcio Quando c'è il VAR Il tempo non si ferma Il tempo non si ferma Mai nel calcio Infatti per quello Ci sono poi Magari Portieri Che aspettano A rilanciare Ci sono Gente che si butta Per terra Per perdere tempo Eh ma qua Ci stanno facendo Succedendo Le richieste Allora Pietro e Lion Non parlate più Aspetta aspetta Facciamo Diciamo La moderiamo Questa qui So che Duccio Allena anche i piccoli È difficile Resistere la tentazione Di placare un bambino Duccio non allena i piccoli L'età non la dice Facciamo un ragazzo Facciamo così Io non allo i piccoli Però sì È abbastanza facile In realtà Resistere Perché Sono alti così Ma più che altri Non c'è bisogno di placarli Li tieni fermi Così dal tavolo No Dal tavolo Sono alti Un 10 cm buono Avete Iniziano già da piccoli I bambini Quali sono i più piccoli Che per esempio Da voi Allora La categoria Minore è l'under 5 Quindi in teoria Hanno L'under 5 L'under 5 Vuol dire che hanno 3-4 anni 3-4 anni Noi Noi Sei sicuro 3-4 Under I 5 Quindi 3-4 Di base 3 anni 3 anni ce ne sono veramente pochi Allora noi come Come Fainzaregbi Quindi puoi vedere Dei bambini di 3 anni Che si placano No 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 è molto più ludico Ok L'under 5 è una parte È fuori quasi dal mini rugby È una parte molto più ludica Ok Noi come Fainzaregbi Non Non l'abbiamo integrata Per ora Anche se era un Un bambino di 4 anni Che si allenava Non so se si allenava ancora E poi dopo ci sono le categorie Under C Quindi under 5 Poi dopo c'è il mini rugby Under 7 Under 9 Under 11 Era compreso Nel mini rugby Anche l'under 13 Ma quest'anno Le hanno cambiato nome E gli hanno modificato qualcosina Infatti inserendo Quelle due cose Tipo L'ho scoperto anch'io Da pochissimo Inserendo tipo Quella mischia 3 Un po' di rimessa laterale Credo Che è tipo il passaggio Tra il mini rugby E la giovanile E poi dopo le giovanili Sono under 17 Sì under 15 Under 17 Under 19 Beh Piccoli giochi Esatto Passa la palla Ogni tanto uno prende il buco E va a fare meta Però se non ho capito male Cioè praticamente Lo stacco da categoria in categoria Magari immagino nel calcio Quando stacchi C'è il campo Che diventa più grande Quindi sono nuovi ruoli Nuove cose Però qui principalmente Molto anche le mischie O no? No non le mischie È il gioco in generale Sia nelle dimensioni del campo Sia nel numero Chiaramente di giocatori E quindi poi ci sono Le mischie più grandi Esatto Dopo si integra la mischia Si integrano tutti i passaggi in più Che effettivamente Come magari voi Non ci state capendo Molte regole Dato che ce ne sono 8 miliardi Un bambino di 7 anni Che va a giocare Che gli riempi di regole Come fa? È anche il concetto In più anche Applicarle nel modo corretto Perché non è semplicissimo Infatti si dice Quando si arbitra Una partita dei bambini Si dice Lascia giocare Anche se sono Dei piccoli falli Anche se ti posteso Per terra No chiaramente Non si rialza più Ma no Piccoli falli È anche un po' La mentalità di tutto Perché Non so Ti ricorderai Se il porso batte Non si aiuta nessuno Non so Ti ricordi Dico una cosa orrenda Secondo me L'auto arbitraggio Non so se te lo ricordi Facevi le partite Con i pulcini E i mister si guardavano E non c'era l'arbitro E c'era l'auto arbitraggio Cioè Si mettevano d'accordo E i mister chiamavano Quando c'era un fallo Solo che Se becchi uno Molto competitivo Magari Non ci sono falli Quella partita Sì non ci sono C'è dalla tua squadra No da noi Da noi sì Nel Si chiamano festival Quando ci sono le partite Del mini rugby Gli arbitri Sono effettivamente Componenti di Terze squadre Quindi sono le due squadre Almeno sono le squadre Una squadra terza Però tante volte Succede Che per organizzare Appunto tutto quanto Il festival Per fare tutti quanti Gli scontri Non ci sia la possibilità Di dare un terzo arbitro Se non organizzato Da chi fa il festival Quindi Succede abbastanza spesso In realtà Che un allenatore O un accompagnatore Debba fare L'arbitro Per la propria squadra Rispetto a un'altra Succede È difficile Bisogna essere Cioè di solito Si cerca di non farlo avvenire No Si cerca di non avvenire Però può succedere Non ci sono 82 Milioni di arbitri È un problema di tutte le categorie Piccole Diciamo O di tutti gli sport Che non sono il calcio Ah ma anche nel calcio Fidete quando sei piccolo Ah beh Comunque c'è l'obiettivo È quello di fare divertire Sì 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 Tanto la competitività Anche perché Soprattutto quando cresci un pochino Magari arrivi sui 12 13 anni Ti becchi il ragazzino Che è il doppio degli altri Vi posso assicurare Che a rugby Fa quello che vuole Esatto sì Però in realtà Penso che sia un contro Perché poi te impari a giocare Negli anni in cui impari di più Te sei talmente più forte degli altri Che invece che adattarti al gioco E imparare a giocare Usi il tuo fisico Poi dopo gli altri ti recuperano Una volta anche ti superano E tu sei rimasto indietro Con la tecnica Quindi c'è sempre una controparte Diciamo Però in avviso i ragazzini Che erano due volte me Che ti passavano sopra Come un tear Come un tear Eh sì Eh diciamo come dire È il bello e il brutto Di sport C'è come dire Contatto fisico Che lì Ma anche Soprattutto le giovanili Torno sempre Anche nel calcio Per dirti Le società Per esempio Noi la Virtus Quando giocavamo Vengono a fare i provini Genoa Parma Cioè magari capite E ovviamente Chi mandano O comunque Quali sono i giocatori Che si vedono di più E sono quelli Che sono alti il doppio Che se prendono la palla Ti fanno così Che te Non riesci a fare niente E magari vanno in quelle squadre Poi in realtà Vedi che Tempo cinque anni Questi ragazzi Spesso Hanno fatto Sono andati là Carichi Sembra che dovessero Tornano E vengono a giocare Non lo so A bagna cavallo A faenza Perché Cioè comunque Sono ragazzi forti Che hanno imparato a giocare Ma Da noi Da noi Allora Purtroppo C'è un gap Che voi si Purtroppo Nel gioco ad alti livelli Il fisico ce lo devi avere Poco Poco da fare Quindi Quando vengono A Quando Vengono magari a scegliere qualcuno A A osservare qualcuno Alle giovanili Guardano quelli col fisico Perché In genere è così In Italia In Italia In Nuova Zelanda Non lo fanno Perché In Nuova Zelanda Sono tutti In Nuova Zelanda In Nuova Zelanda Ti prendono se sei buono Esatto Qua invece Ti prendono se sei al fisico Dicendo Ti insegno E imparerai Poi vediamo Poi c'è in verità Gente che Che non aveva questo gran fisico Però erano dei mezzi Fenomeni Già alle giovanili Dico Ok Vieni qua Poi vediamo Però il fisico Nel rugby Di nuovo rispetto al calcio Però è già una grande sicurezza Nel senso Questo qui è sempre A altre categorie È già avanti Cioè nel senso Immagino però Cioè È già una Come dire magari Di nuovo Io purtroppo faccio sempre Paragoni con il calcio Però dico Nel calcio Sono al fisico Ok Sei avanti Ma poi gli altri Se ti recuperano Un po' di fisico Te magari avrai sempre più stazza Ma Nelle altre qualità Fai fatica Ad avanzare Si vede tanto Magari nel rugby Se uno ha già il fisico Ne ha già Tra virgolette Metà della fatta Realmente Nel senso Dipende quanto ne hai E dipende anche Che ruolo vuoi fare Sicuramente Ci sono giocatori Anche di livello alto Alto magari Non parlo Giocatori nazionali Ma comunque Giochi delle serie Molto alte Che sono talmente Fisicamente Portati Per questo sport Che anche se Non hanno una Tecnica incredibile Fanno comunque La differenza Perché alla fine A volte Veramente È solo anche una questione Tenere la palla In mano E andare dritto E se sei il doppio Degli altri Vai il doppio Degli altri Eh lo senti Puoi fare la differenza Eh sì Faccio una domanda Chi è quello più grosso Che avete mai incontrato Sì vi dico Cioè Nel senso Avete visto questo E detto Ok io ce l'ho subito E Duccio S'ha giocato ovviamente Anche Duccio contro Perché ha sembrato Tutte le stesse partite Che ho fatto io Ed è un giocatore Che giocava Prima a Ravenna E poi è andato a giocare A Ci ho pensato adesso Uguali denti A Romagna Che è la squadra Di serie A Da Romagna Noi siamo tutti Praticamente tutte le nostre squadre Sono satellite Di questa squadra centrale E lo chiamavano full Lui era Un armadio 1,95 Ah lui però Adesso non lo gioca Lui gioca a Milano Adesso non so Vabbè comunque Ecco lui era proprio L'esempio Di quello Che era veramente Fisicamente Era molto più degli altri Tecnicamente meno Ma col fisico Riusciva comunque A formare quel gap Di tecnica Ed era molto forte Era Sì 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 Era veramente Insormontabile Era quattro volte Gli altri Poi a 16 anni Era già tipo anche Un campione di cannottaggio A due spalle Larghe E tu vedi Quelle persone Dici Vabbè Ho fatto così Un vasto Però ripeto Questi qui sono I grandi Quelli che magari Che fanno ruoli anche Guardi Qua ci chiedono Se si chiama strada No Strada è un altro Molto forte Molto grosso Molto forte Ho fatto più carriera Di questo qui Perché Credo che giochi anche lui Dalle zone di Milano Lui è sempre passato A Romagna Però era bello grosso Milano quindi è importante Per il rugby No È il nord Italia Diciamo che le zone Di rugby Dove è più sviluppato Perché il rugby Molto a macchie In Italia Va La zona del Veneto Nord Italia Con il Veneto Friuli Probabilmente Veneto Friuli Lombardia Un po' Piemonte E la zona di Parma 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 E tutte le cittadine Il cavolo Attorno a Parma Gocano a rugby Poi c'è Romagna C'è la povertà assoluta No Adesso non è vero No È quasi assoluta Poi più vai giù Più ci sono magari Qualche centro In cui si gioca All'Aquila Per esempio Ci sono un paio di squadre Di attorno Che giocava a rugby A Roma Però ce ne sono poche Ma poche È brutto da dire Ma ce ne sono poche Negli ultimi anni Il rugby come sport Secondo me è cresciuto È rimasto così Io ho un'idea In Italia Io mi sono fatto un'idea Senti la teoria di Dulce Mi sono fatto un'idea Nel senso che Chiaramente Il rugby Ha avuto un periodo Di crescita Incredibile Più o meno Sul Fino ai 2008 Circa 2010 All'incirca Dopo leggiamo No vai col commento Basta Pietro smettila Continua Dopo leggiamo il commento Dopo Più o meno Fino al fin 2010 Poi dopo è stato Un leggerissimo Una leggera discesa Fino a arrivare Effettivamente Al covid Che Non solo noi Ma Quasi tutte Praticamente Società Che ha avuto Una botta Incredibile E Sta riprendendo Sta un pochino Riprendendo Io ho visto qualche Piccolo passo in più Non solo nostro Ma in generale Secondo me Pian piano Non dico che Non dico Che deve tornare Come il 2010 Però Avrà riscontro Però Negli ultimi anni È crescita abbastanza Nel senso Ha avuto Cioè ha avuto Un picco Ha avuto Un picco Un pochino calato Forse È quello che dicevo Dopo il covid Proprio Quando voi Il piccolo ha avuto Nel 2010 Poi c'è stata La discesa incredibile Fino al covid Però il covid È stato al punto più basso Adesso sta un pochino Forse risalendo C'hai vari Torni importanti Sette nazioni Sette nazioni No esatto Con tutte quelle cose lì Che magari Vanno in tv Ma Cioè vuol dire No però è stato un periodo Che Se il rugby si è unito Anche in tv Mi ricordo Cioè In tv hanno avuto Il periodo di Imax Che Anche quello Cioè Il periodo di Imax C'è Chi ha Chi l'ha Chi gli è piaciuto tantissimo Chi meno Perché Imax sicuramente Tirava molto Però dopo Magari anche per Tanti si lamentavano Ad esempio Del commentatore O del modo Dove il nivergestino Ad esempio Che sì Era effettivamente strano Ma era divertente Per tanti A me divertiva Per altri invece Dicevano No non è serio Adesso invece Che l'hanno spostato su Chi ce l'ha? Sky Chi ce l'ha Sky È diventato Molto più serioso Serioso Non serioso Sì 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 Serioso Va bene Va bene Va bene Però Sky È come dire È più difficile Avvicinare Comunque Sky Dimax Magari una gente Parla Giri in tv C'è una pubblicità È più Ovvio Cioè Dimax Per tutti Sky Per alcuni Però nel senso Come dire Anche certe partite Magari Come dire Si è avvicinato Un po' di più Come vedi magari Delle partite di basket Vedi delle partite di pallavolo Della nazionale Adesso vedi anche Delle partite di rugby Della nazionale ogni tanto Sì Altri sport Magari più Come dire Però secondo me Non ha degli espluati Magari la pallavolo Sono sport comunque Anche quelli Meno seguiti Però quando c'è il mondiale Molto più gente Gioca a pallavolo Le basket Sì Anche molto più gente Gioca a pallavolo Parliamo sempre Del rugby In Italia È esatto Il rugby è uno sport In cui Il divario tra due squadre Se una è più forte All'altra Si sente tantissimo Questo Porta poi a Una nazionale Come l'Italia Che dici È scarsa Perché perde tutte le partite Prende Un sacco di punti Da tutti Però in realtà È undicesima Nel ranking mondiale Non è Trettacinquesima Solo che Quelle davanti a lei Sono talmente anni luce Ma a livello di cultura Proprio radicata Nel territorio Che la differenza Si sente sempre tantissimo Ecco A proposito La questione anche Della salita Alla discesa Del rugby in Italia È dovuta Tanto anche Alla nazionale Nel senso che Chiaramente è tutto collegato Cioè Se c'è tanta cultura Allora la nazionale Potrebbe avere Dei giocatori più buoni Dei giocatori che hanno più Non più voglio Un bacino di ragazzi Esatto Un bacino di ragazzi Maggiore Ergo Riescono a portare Risultati migliori Però probabilmente Li deve rubare Nella discesa Nella discesa Noi quant'è che non vincevamo Le 6 nazioni Da 5-6 anni Ecco Prima Prima della partita Del Galles Circa 5-6 anni Che era È stato un duro colpo Soprattutto Perché guardava le partite Era proprio una sofferenza Dall'anno scorso Dalla vittoria Con il Galles Però forse Già da prima Abbiamo avuto Una vittoria Contro Il Sudafrica Poi dopo Questo anche Qualche anno fa No Non troppissimo Poi dopo Vabbè Il Galles l'anno scorso Si è sbloccato Sembra che si sia Un pochino sbloccato In realtà Nei test match Siamo andati bene Abbiamo battuto Australia Abbiamo battuto l'Australia Eh sì Infatti Era una storica vittoria Con il Wall of the Bills Assolutamente Esatto Infatti Quello che ha fatto vedere Quindi io credo In questa piccola risalita Ma secondo te Perché In Italia Non riesci ad attaccare Come sport Diciamo Non è che non riesci ad attaccare Semplicemente che Abbiamo una cultura Calcistica Troppo grande Ma non per dare conto Al calcio Semplicemente È che È una questione di cultura Nel Come si è abituato Nel paese anglosassoni Il rugby Esiste il calcio Ma il rugby È sentito tanto È proprio La vività E conosci il fatto Che tu puoi viverla tanto In Italia Sai del calcio Sai che puoi vivere Tanto il calcio E non conosci così tanto Tanta gente Ogni tanto Arriva Tanta gente Ogni tanto Arriva e mi dice E dice Ah non sapevo che C'era una squadra Di rugby Per fortuna Ho conosciuto Tizio Che mi ha detto Che c'era la squadra Se no io mio figlio Non l'avrei mai iscritto Non l'avrei mai fatto provare Quando in realtà Cioè Alla fine In ogni In ogni città Un pochino grossa Nel senso C'è Faenza C'è Imola C'è Forlì C'è Ravenna Da qualche parte La troia La squadra C'è Ecco Con tutte le categorie Più o meno Perché poi è Soprattutto come dicevo prima Radicato in certe Amacchie No In zone come il Veneto Si gioca a Reibing Nelle città Di 15.000 abitanti Nelle squadre Che giocano in Serie A Magari In top 10 Si sono delle squadre Di top 10 Che è il massimo Campionato italiano Sono squadre Da 50.000 abitanti 40.000 abitanti Però lì Tu cresci Quando sei nato Ti mettono un caschetto Una palla da rugby Ti mandano a giocare Magari è lo sport E lì è cultura In Inghilterra C'è la cultura Già anche dalla scuola Per esempio Magari ci sono Le squadre del liceo Tutte queste cose Che sicuramente portano Questa cosa aiuta Questa cosa Dei piccoli centri Secondo me Molto degli sport Un po' più diciamo Meno popolari Perché Non c'è una squadra Di baseball Tipo a Godo Non vorrei dire Sì In Serie A Mi sa Non penso sia in Serie A Sicuro Esiste una serie B Di baseball Non lo so Esiste una serie Di baseball Io so solo Che mi sembra Che ci sia Una squadra di baseball Importante A Godo Cioè Qui di Fiat No no Vi ricordavo È una squadra Non so se sia in Serie A Però Erano Sì Vabbè Però Mio zio mi istruiva Che lui seguiva il baseball Quindi Mi rifazzo Però per dire Mi sembra che ci sia una cosa così E ti dici Godo Cioè Per chi non lo sa Non sa quanto è Godo Ma Godo probabilmente Quanti abitanti di palazzo Ma sì Sono tutte Anche qua Stanno dicendo Anche Tipo i palanuotisti Anche a palanuoto Ma Cioè Secondo me è più facile Che magari Delle cittadine Partano Che ne so Fanno un campo da baseball E Non so Magari Ci sta Invece il calcio Devi competere Sui numeri Secondo me Quindi Una piccola città Magari Il calcio È È un'altra cosa Sì sì Il calcio in Italia È un'altra cosa È una cultura calciocentrica Cioè Lo sappiamo Nel mondo Cioè Forse in India Giocano più a cricket Che a calcio È però tipo Forse l'altro Sono gli Stati Uniti Con football americano Ma basta È Cuba Però comunque Tutte le nazioni Forte di rugby Secondo me Hanno in comune Almeno In diretti giusto Australia Nuova Zelanda O no Sudafrica Sudafrica Cioè Che sono al sud Sono al sud Però Ovviamente Sono di cultura Inglese Diciamo Ovviamente Inglesizzate Però Però Il calcio da loro Conta Cioè Poco Tra virgolette Cioè Se guardi i nazionali Non sono nazioni Che Spingono così tanto Non è il calcio Però È il rugby Uguale magari In Australia Però io Non sono così sicuro Che gli iscritti di calcio In Australia Siano meno Degli iscritti di rugby Però Però anche come importanza Cioè Secondo me Gli danno più Più rilevanza Perché È il loro Sport in cui Accelano Che alla fine Nel mondo La nazionale di calcio Australiana Purtroppo Non è conosciuta Quella del rugby Sì Tutti quanti Cioè In Nuova Zelanda Nonostante I mondiali di calcio C'è la nazionale Australiana Si è andata Ma quelle Lasciamo perdere Lasciamo perdere Vabbè No In Nuova Zelanda Tutti conoscono Gli All Blacks Chiunque Anche se Nessuno ha mai parlato No lo dico Anche se Nessuno ha mai sentito Parlare di rugby Però All Blacks Un minimo Ne senti Sicuro Ah sì Quelli che fanno Il balletto Com'è che si chiama H Sì Quello Diciamo Alla nazionale di rugby Italiana Deve trovare Un qualcosa Di caratteristico Oppure Dovresti iniziare A tatuarvi la faccia Per chi non l'avesse Mai visto Andate a vedere Il video in cui Il Milan Fa l'H Per una pubblicità Tipo di Deodorante È vero È la cosa più imbarazzante Guardate Scrivete Milan H Qualcosa Mi ricordo C'è la gente Che io Quando l'ho visto Ho detto Voglio dire No Ho visto Dei personaggi Fare l'H Nel Milan Che è proprio Vabbè Niente Io rimasto Se fossero Riccato a guardarlo No vabbè Ecco quello Beh però Rugby e calcio Nascono Non so Giusto Insieme Addirittura dicono Che il rugby Si è andato Prima del calcio No dicono Che in realtà Aspetta Aspetta Non vorrei dire Una cavolata Dalle mie informazioni Quei che Ho guardato Nei miei ricordi Adesso ci guardo Non ho cercato Ultimamente Quindi Mi sto fidando A quello che mi ricordo No no Di Dovrebbe essere Che in realtà In Inghilterra In una città Non mi ricordo quale Però Si giocava questo sport Ma c'era Una parte di universitari Che praticamente Usavano piedi e mani Tutto Cioè Ok Facevano a casa E poi Iniziavano a buttare giù Delle regole E c'era una parte Una zona Che preferiva Usare di più Le mani E addirittura Una parte Che invece Usava di più I piedi Diciamo E allora Se vuoi Ho la risposta Dell'internet La leggenda Che io Ho sempre Proprio non ho sentito È che durante una partita Di questo sport Così Il signor Webb Ellis Dato che non c'erano Regole ben scritte Bene Invece di calciare la palla Prendere la palla E la porta In Nella porta Perché non posso farlo Sì che posso farlo Allora De lì Webb Ellis È anche una È anche una coppa Non mi ricordo di cos'è Esatto Però sì sì Eh visto è studiato ragazzi Volevo leggere È una leggenda No no Non è una leggenda Però a quanto pare Inghilterra Tutto il posto di rimpalestra Storia del regolo 1823 Davvero esiste Durante una partita di calcio Questo qui prende la palla Va Con le mani Però comunque vedi Dopo nasce da quello Dove sono due movimenti Gente che si è spostata Sì sì Ma per diventare in contemporanea Cioè nel senso Il calcio Magari c'era talmente Poca regola Oppure si giocava così Non so Che poi come se il calcio fosse In realtà sono gli sport Con la palla Dalla Cina Da mo ancora Sì vabbè Adesso tu Fino Arriviti La lezione di storia Se tu dici a spiegare Il rugby cinese Non penso di no Però tutti gli sport Vabbè basta Chiudiamo la parentesi Domanda In Cina c'è il rugby In Cina gioca il rugby Io non l'ho mai sentito Sicuramente Sono un miliardo e mezzo Quindi i giocatori non li trovano Non sono grossi Loro di fisico No aspetta Hai capito i giapponesi Hai capito i giapponesi Magari un pochino più bassi Rispetto alla statura media europea Hanno la stessa identica stazza degli altri Sono forti uguali Perché se li funzionano quelli potentissimi Scordatevi il giapponese piccolino Tutto chiaro di pelle Ci sono anche quelli grossi Sono degli isolani figiani Che pesano 130 kg Solo col passaporto giapponese Anche come questione di cultura Ad esempio ci sono le Fiji Che sono delle isolette Cioè sono tutte le isolette Lì ci creano una delle squadre Non so in che posizione del ranking sono Ma sicuramente quasi sopra di noi Sono isolette con niente Quindi lì Tac vai Gioca rugby Loro sono tutti immensi Hanno dei top player che giocano nei migliori club del mondo E sono Hanno la stessa Gli stessi abitanti di Bologna E Bologna hanno una squadra di rugby Loro hanno la nazionale E i migliori giocatori del mondo Uguale Tonga O Samoa Sì sì Sono tutte lì E poi sarebbero molto più forti Se Australia e Nuova Zelanda Non facessero così Esatto E scari giocatori ovviamente Vabbè dopo quello è un Come qualsiasi sport Cioè il business E poi nel rugby credo che ci sia molto più Che nel calcio Questo Cambio di maglia Di nazionale Ci sono delle regole diverse Quelle nazionali Giocavano molto di più sul Nel calcio negli ultimi anni Le hanno strette un botto Io sono d'accordo Io non vorrei dire delle cavolate Da noi dovrebbe essere Che tu inizi a giocare Per una nazionale E Se tu vuoi cambiare nazionale Devi almeno Devi Non giocare per quella nazionale Se non sbaglio O tre o cinque anni addirittura Si si Non c'è da troppissimo E È un botto Cioè nel senso che butti Magari gli anni migliori Della tua vita Per non giocare in nazionale Cioè nel senso Quando scegli Scegli Però è anche vero Che ti basta giocare Una manciata di anni Che non mi ricordo quanti Tre, cinque Non lo so In una nazione Tipo Io sono australiano Gioco Cinque anni Alla Benetton Treviso Che è una squadra di forti Italiane E poi posso Entrare in nazionale Ma Magari Non so Non so neanche se deve avere Per forza un parente italiano Non lo so Ci sono delle cose strane Infatti la nazionale Cioè se giochi per un club Per tanto tempo In Italia Magari ti fanno entrare anche Esatto Nel calcio sono un po' più restrittivi Secondo me è giusto Perché poi infatti Adesso la nazionale di rugby È composta da Molti molti italiani Però è stato tanto tempo Che c'erano molti argentini Ma scusa C'è un Uno forte italiano Che fa sempre meta Dai Quello che ha vinto un premio Tipo miglior Quello che ha i capelli lunghi Quello che ha i capelli lunghi Capuzza Esatto Però lui è Cioè Lui ha un parente italiano Babbo Non è il babbo italiano Il nonno È il nonno È abbastanza italiano È lui che Infatti mi ricordavo Che non ha Cioè parla italiano Ma L'ha iniziato a sbiasciare Adesso Parla italiano Con il Duccio parla inglese Con un seduccio Era lui Che sì Che era un po' Ecco Lui è un esempio Di quelli che Non ha niente di fisico Ma sono dei piccoli fenomeni Cioè lui è 1,70 Per 77 kg Niente Cioè lui è l'esempio Che se fosse Avesse fatto la sua carriera Eclistica Sin da giovane in Italia Probabilmente Non giocherebbe A livello in cui è Perché magari Non l'avrebbero notato In Francia Che c'è una cultura Molto Ecco anche in Francia Molto Molto Anzi La resta di serie francese Cioè il campionato francese È uno dei migliori del mondo In cui vanno spesso anche Non so Gli old blacks Che fanno gli ultimi anni Prima di ritirarsi Vanno a giocare in Francia Sono i club importanti La Francia adesso Quest'anno è la favorita Anche l'anno scorso Ma la Francia Sta puntando un botto Cioè nel senso Gli sport in generale Cioè Oppure Oppure se è l'Italia Che punta Molto sul calcio Penso È perché Tu punti dove vinci Un goccino Devi pensare anche quello Però vinci se tu Ci hai fatto il lavoro dietro Con giovanili Ci hai investito Queste cose qui Però quando vedi Che qualcosa Prende piede E funziona Anche A livello di Anzi Praticamente solo A livello di business Spingi lì Spingi su quello Che potrebbe avere La possibilità Ragazzi la Francia Come nazionalità Cioè nel senso Cazzo un insulto No Prendono Prendono di tutto Cioè nel senso Loro ci hanno Ah sì ok Sì sì Cosa intendi per di tutto Amleto Loro con tutti gli stati Che hanno colonizzato Quindi con Sì è vero Anche quello Anche loro anche Ormai piccole isolette Ancora che hanno in giro La Guiana Francese Tutte quelle isole Che ci sono Hanno 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 tanto bacino Da cui prendere Cioè Qualche bel giocatore Anche in nazionalità Di rugby Però per esempio Esatto Hanno Il Sudafrica Però adesso È una delle nazionali Più forti del mondo Anzi è la campione in carica Del campionato del mondo Nel Sudafrica Dove c'è una bella cultura Di rugby Sicuramente Credo che sia Lo sport nazionale Perché L'Africa calcio Chi se lo sciacqua E Lì fino a Vinti anni fa Le squadre erano Completamente composte Da coloni inglesi E c'era forse Un ragazzo di colore Adesso Ce ne sono un paio Anche il capitano Lo è per esempio Però è stata una svolta Che ci sono gli ultimi anni Quindi non era Tanto una cosa di fisico In quanto una cosa di cultura Cioè A rugby Ci giocavano Quelli Ok Sì 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 Anche negli ultimi anni Che siamo un po' Unita Diciamo La popolazione Non parliamo di Geopolitica Per favore Stiamo andando in un discorso Molto pericoloso Restiamo Stiamo sul rugby Per favore Sì va bene Vabbè Io ce l'ho una cosa Beh Ma Le protezioni Se ci sono Oltre al questo Questo è Quello è Io duccio Facoltativo Esatto Questa è Per me Allora Le protezioni Di base Il paradenti Che non è obbligatorio Tranne in giovanile Voi lo usate Il paradenti Sì usiamo Il paradenti Ce ne sono due Tre di noi Basta Lui scrive sempre Se strozzare Sempre Tutto il tempo E Ci sono alcuni di noi Magari che non lo utilizzano Però Praticamente Tutti utilizziamo Il paradenti Poi Alcuni Utilizzano Il caschetto Io Personalmente L'ho sempre utilizzato L'anno scorso Non l'ho utilizzato Perché è così Però Ho visto che Vado molto più È una questione mentale Perché Lo sei di più sicuro Magari Sì ma Qui la botta Chiaramente Un mimo La regge Però se Più di una bella panacca Non cambia niente È una questione Per me È una questione Di 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 sicurezza mentale Beh Col caschetto Anche eviti di aprirti la testa Nel senso Se prendi una bella ginocchiata Una gomitata Forte in testa Col caschetto Non ti fai il taglio Che comunque Non è poco Sì Però te Sancio Non lo usi Io non lo uso L'hai usato però L'ho usato Perché ero stato obbligato Un piccolo incidente Rictistico Mi hanno obbligato A dover usare il caschetto Finita la stagione Ho smesso di usarlo Perché comunque È scomodo È qualcosa È una cuffia Ti tiene Siete un po' dei pallanotisti Esatto Sono un po' dei pallanotisti In quei colpi Questo non lo posso Io infatti L'anno scorso L'ho smesso di utilizzarlo Perché mi scoppiava la testa Per il caldo Tutto quanto Non riuscivo a ragionare Però dopo Non lo so Quest'anno Ho ridetto Dai Lo provo a riutilizzare Non lo so Mi sentivo più fresco Il giocatore con il caschetto Comunque c'è in tutte le squadre Non ho mai visto la squadra Con il giocatore Quindi Duccio ha preso Questo scetto Ma non sono l'unico Siamo in In 3-4 Che lo utilizziamo Forse anche 5 Sì al massimo E poi Ecco Soprattutto magari Che ne so Se uno gioca a seconda linea Quindi che devi andare a mettere La seconda linea È I tre piloni Che si parlava da prima Quindi nella mischia Sono esattamente quelli dietro Che loro La loro legatura In mischia appunto È La legatura tra i fianchi Dei piloni In cui metto Esatto La testa Tra i fianchi dei piloni E Succede Le orecchie A strisciare Schiacciano Ti si schiacciano E ti puoi far male Quindi utilizzando questo Non Non hai modo Che le orecchie Si stirino Ecco E Fighette No Infatti volevo attaccarmi A questo discorso qui E cosa ne pensate Di quelli di tutto l'americano Che loro Loro si Bardano L'unica parte Che non è protetta È questa E Secondo me Non hanno Non penso abbiano Il parastinchi Per il resto È tutto Fino al ginocchio E poi hanno È che il futuro americano Si dà proprio Delle botte Gratis Cioè Mi sembra Allora Innanzitutto Mi sembra che quando loro Si picchiano Vorrei fare una premessa Vorrei fare una premessa Sancho è partito Dicendo Non parliamo male Degli altri sport Continuiamo Quindi ne sta parlando Bene Loro si dando Le botte serie Soprattutto anche in testa E Mentre nella regga È particolarmente È molto dietato È molto tutelato È in rosso subito Ti mandano fuori A fare la doccia E Loro Mi sembra che siano Abbastanza obbligati A vestirsi in quel modo Poi io Cioè Sono uno sport Come il regga Non è per tutti Se decidi di fare Il football americano Mi spiace da te Sicuramente Se nasci oltre oceano È meglio non farlo Il football americano Ecco Però Visto che il rugby Sta crescendo Anche negli Stati Uniti Forse si si rende Si conto di qualcosa Beh Anche se lì Avranno una gran concorrenza Più che altro Se lì Il football americano Sono tutti un po' Fuori di testa Il football americano Un po' Ah no Che è il rugby Ma scusa Però Nel rugby Ci sono i passi Anche nel rugby Cioè Nel rugby Non ci sono Discussioni Sul Salute Nel senso Traumi Sulla pericolosità Allora Ne parlano Per dire già Che per me È una cosa esagerata Nel calcio Sui colpi di testa Che dai con la palla Cioè per dire Io Immagino Nel rugby Non c'è Non c'è questa discussione Allora L'unico modo Chiaramente Pensa Negli anni Ottanta Se non addirittura Novanta La mischia Adesso Adesso la mischia Si parte In questo modo Vicini E al via Cioè Bassi E si abbassa Lega E ci si lega I due piloni esterni Si legano tra di loro E al via Vanno a contatto Ma In un breve spazio Ecco Non è tempo di prendere Si danno un bel ingaggio Si danno un bel ingaggio Chiaramente Però comunque Non hai quello slancio E hai sicuramente più Devi avere mira Devi Non hai mira Sei già incastrato Vabbè Comunque Devi semplicemente Appoggiarti E spingere E dare il colpo Pensa Negli anni Ottanta Si partiva da in piedi L'arbitro diceva Via E si faceva Boom E si legava C'è roba da pazzi Ma I piloni Che giocavano Negli anni Ottanta Novanta Ci sono alcuni Che sopprono A 40 A 50 Magari anche Di demetra Sì 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 Di problemi A cervella Troppe botte Questo qui però Era un tempo Adesso Siamo molto più Adesso Soprattutto da Se non erro 2016 O 2017 2016 Concussion test Adesso ci ha messo Una serie di regole Sulla concussion Cioè Sul colpo di testa Che Prevede Sia Tutta una serie Di Di controlli E procedimenti Quando avviene Una concussion Ma anche Di regolamenti Molto più Molto più pesanti Vedi un Colpo di testa Magari fatto Apposito Il rosso parte Immediatamente Oppure Che ne so Il placcaggio alto Una volta Era sopra le spalle Adesso E invece Sotto Sotto le ascelle E cambiano Anche sotto le ascelle Sì è il limite L'altezza Ferro per la spalla Proprio Mettendoci il braccio Qua Puoi dare placcaggio Adesso Però Non è sempre Dipende Di base Di base Esatto Situazione Situazione Di base La spalla Deve essere Sicuramente sotto La mia spalla Che vado a placcare Deve essere Sicuramente sotto La ascella Quello che diceva Duccio Proprio a livello Anche di sanzione Di gioco Quindi cartellini gialli Premessa Nel rugby Il cartellino giallo È diverso Che nel calcio Perché se ti becchi Il cartellino giallo Stai fuori 10 minuti Quindi per 10 minuti La tua squadra Sta in un giocatore in meno Quindi è determinante Effettivi 10 minuti 10 minuti effettivi Sì di gioco E nel rugby Le sanzioni Dei cartellini Cartellini rossi Soprattutto Sono aumentate molto Sulle botte in testa Nel senso Quando c'è una contesa Di gioco E tu vai dritto Con un treno E tieni una spallata In testa uno 15 anni fa 20 anni fa Era cartellino giallo Adesso è rosso È rosso Ti prende le squalifiche È gigantese Esatto E devi stare più sul pezzo In effetti ci sono più regole Che in fulgore americano In effetti fanno quel che gli pare Cioè nel senso Intendo queste cose qui In effetti In fulgore americano Basta che tu vai giù La maggior parte delle regole In realtà che ci sono Oltre quelle di gioco Sono per tutela Sono tanto per tutela In realtà Ma i fortuni Tra fulgore americano E rugby Com'è la situazione? Qual è? Adesso le statistiche Adesso statistiche Però ad esempio Per la cosa lì Del concussion Praticamente Prima Poi ovviamente È diverso Perché poi Tutto l'americano Può lanciare dritto Quindi la gente Corre anche molto Cioè non lo so Magari Non sei magari Non vai per la linea Non vai molto in orizzontale Ma vai molto verticale Quindi c'è molto anche Lo scontro In realtà Tendenzialmente Anche noi Dovremmo andare Molto verticale Però praticamente C'è gente che caricava Di testa le altre persone Ecco E tu hai Cioè Allora È un altro mondo Diciamo così Il concetto è questo Il caricare di testa Puoi farlo In quanto attaccante Poi dopo C'è tutta una serie di Però ecco Queste qui Comunque sono Tutte le Cioè il concetto È comunque la cosa Peggiore che può succedere Non è che succede regolarmente È una delle cose Peggiori che può succedere E buona Tranquilli ragazzi A rugby Non ci si fa male Potete rimanere a giocare Non vi preoccupate Gli infortuni Anzi Gli infortuni Quelli più normali Sono come quelli del calcio Il crociato I menischi Le ginocchia Anche a basket Non piangere dai Tranquillo Abbiamo in studio Uno che si è appena fatto Il crociato Da poco Perché in realtà Le protezioni Del Futuro americano Non servono a calze Cioè Ti potrebbero Più per me A livello No ma Se non hai regole sul fallo Sì Sì È che nel football Ti puoi fare uno Da Da un angolo cieco Sì 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 Succede anche lì Ti arriva dal davanti Giri Fai una bella torsione Guardi indietro E ti arriva uno sul Magari Magari Sì 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 Però Nel football americano Sì sì Non ci sono regole Quindi lì Come dire Secondo me Quando te l'aspetti È molto più pericoloso Esatto Ma più che altro Lì secondo me Per forza Ci devono essere Forse le protezioni Perché Tieni uno da dietro Cosa fai lì dopo Ma di protezioni quindi Obbligatorie nel rugby Obbligatorie In prima squadra Cioè In signore Non ce n'è nessuna In giovanile C'è il paradenti Obbligatorio Ci vuole il paradenti Ti saltano via Cioè se becchi male Ti saltano È sempre Una dei casi più gravi Nel senso Se colpisci la testa E succede È un problema Ah ma guardate Sono sordi Anche Anche nel football americano Nel paradenti Che hanno La grata di ferro Immagino che il rugby Sia molto più devastante Se va a succedere Questa cosa qui Sì Cioè alla fine Il dettello scheggi Non si prende Alla maggior parte Non si prende La botta esterna Sono tutti casi estremi Sì 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 Beh però il paradenti Giocate il rugby Non fate Così invadente Quanto un caschetto No no Non c'è un video Non c'è un video Cioè nel senso Per me per la protezione Che ti danni Cioè conviene Io non lo sento Quanto si parla Durante Cioè nel senso Ci sono Vabbè a parte Adesso i schemi Ci saranno Abbastanza Parlo io Esatto Però nel senso Tra compagni di squadra C'è comunicazione C'è quanto Nel senso come dire Nel calcio Ti dici due robe Magari Adesso non so quanto Riesci a parlare Visto che sei molto lontano Nel rugby Sendo tutti lì vicini Riesci a dire più cose Adesso non so Non so se hai capito Non dovendo occupare Tutto il campo E giocando più o meno Su una linea È più facile anche comunicare Diciamo che Premessa Nel rugby I ruoli sono quelli E basta Cioè non c'è il guardiola Che fa il 4-3-3 Il conte che fa il 3-5-2 Sono 15 giocatori Cioè la mischia Il mediano di mischia Il mediano di apertura I due centri Le due aree L'estremo Stop Ognuno ha il suo Ognuno ha Ogni ruolo C'ha il numero E tutto quanto Quelli che parlano di più Tendenzialmente sono Mediano di mischia E mediano di apertura Ancora di più Mediano di apertura Perché sono quelli che Gestiscono il gioco Sono quelli che prendono Il pallone Che lo aprono Cioè che lo passano E quindi sono quelli Che scelgono le giocate È un po' tipo Il playmaker nel basket Più o meno Quindi chiami gli schemi Chiamo gli schemi Chiamo anche quando Non sono direttamente Convolto io Magari voglio che Il mediano di mischia Passi la palla A uno dei ciccioni Dei quelli grossi E ho una chiamata Magari si chiama A chiamata rossa Tra gli avanti Sono spesso chiamati ciccioni Ma anche se non sono Effettivamente grossi Figurato eh Ecco adesso Ci dobbiamo proteggere Amorevolmente Tutto un meme Grandissimo Del playmaker Quindi comunque Tendenzialmente Sì è il numero 10 Che al mediano di apertura A chiamare E muovere E comunicare Con i quali compagni Poi ovviamente Ognuno Ci sono quelle piccole chiamate Come nel calcio Può essere palla Nel regno Cioè non so Meno quello Sì 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 No vabbè certo No vabbè certo Ci sono le cose Però ad esempio Una volta chiamato lo schema Come dire Ognuno sa cosa deve fare Oppure c'è anche un Un gioco libero dopo Nel senso Magari ci fosse il gioco libero C'è sempre un gioco libero Allora parlando di alti livelli Ci sono sia gli schemi Che il gioco libero Ovviamente In base a come tu Come attaccante Sei forte nel momento in cui Quando attacchi Nel momento in cui Sai calibrarti In base al movimento Tra la difesa Quindi se la difesa Si muove in un modo Giochi in un modo Se non è l'altro Però sì Non è come nel football Secondo me A livello di schema Ma parli Nel football americano C'è squadra d'attacco Squadra di difesa Chi attacca Non è mai chi difende Sono due squadre diverse Penso che sia una cosa Tristissima E poi Pensa hanno anche La terza squadra Che è quella per fare il calcio Ti dico solo questo Quindi cioè Loro hanno tipo Un'esquadra da 50 Giocatori Una squadra per ogni Sì sì Loro hanno Non ci sarebbe nessuna squadra Esatto Quindi tutta la Roma Non c'è una squadra No Dopo ovviamente Ma questo ovviamente Sempre questi sono Livelli alti Ovviamente Nel livello bassi Giochi tutti e due ruoli Perché non c'è la gente Ma poi lì c'è una scuola C'hanno una squadra per scuola E uno di football americano Eh sì Vabbè ma dopo Quindi ad esempio Vedi ad esempio Il football americano C'è proprio la squadra Che attacca E la squadra che difende Quindi lì sono due cose Separate Ad esempio il quarterback In attacco Il football americano Gioca solo in attacco Non gioca in difesa Lo mantengono Tra virgolite Nel rugby ti picchi Sia in attacco Che in difesa Sei sempre te Ecco quindi fai Il doppio triplo Della fatica Poi ci sono ruoli In cui ti picchi di più Ruoli in cui ti picchi di meno E dopo te Dipende quanto ti piace O dove ti mettono No C'è anche quelli Che proprio vogliono Far a botta In senso sportivo C'è da dire Sancho gioca In un ruolo In cui Tendenzialmente Non dovrebbe picchiarsi Quanto gli altri Si picchia Perché si picchia Però non quanto gli altri Ma lui gli garba troppo E quindi spesso e volentieri Sputta dentro Sputta dentro Oh questo piccolo Picchiare Picchiare è sempre Riferito al gioco Ovviamente Contatto fisico Regolamentare Sempre No 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 Perché magari Si si confonde Il picchiare arrivi Non funziona Non è quello Si picchia Fare un po' Slap in campo È penso Lo sfogo migliore che ho Non ho bisogno Slap è sempre inteso Figurata No non figurata È sempre il gioco Non il picchiare Ci si dà anche le slappe In campo Giochiamo picchiando Qualcuno va in cuore Con il rosso E chissà quanta Duccio non voleva parlarne Però in realtà Ci si dà le slappe Anche in campo Soprattutto nei punti In cui l'arbitro Non può vedere Ce le si dà di santa ragione Negli angoli secchi Ci sono quelle situazioni Di giochi In cui magari c'è un po' Di cumulo di persone Quindi non si vede molto bene E se tu c'hai il braccio libero Inizia a sferrare I cazzotti ovunque Allora queste sono le basse Aspetta Queste sono le basse Siete tutti lì Queste sono le basse categorie Come in realtà nel calcio Immagino che in basse categorie Un po' le schifosate vengono Ovviamente Credo che le basse categorie Del calcio succedano Anche cose Nelle basse categorie del rugby Adesso Adesso molto meno Perché rispetto Da qualche anno È tutto ultra tutelato Fino a qualche anno fa Quindi pre 2015 Ripeto C'era molto più sporcizia Molto più Più Giochini Giochini sporchi Tantissimo Infatti qua scrivono E che fai? Non la pesti la mano in rack Per forza Per forza Capita Magari ti ha fatto un torto prima Magari ti ha tirato un pugno in faccia prima Stringi le palle Mi tiri i capelli Vedi che Vedi cosa serve No Esatto No Pietro Così dopo Forse No La risposta È la risposta alla domanda Forza E Chiediamo Io poi Chiediamo con l'ultima domanda Te volevi fare Nel senso Secondo voi Il rugby Nel rugby C'è Spazio per l'innovazione Che prima Hai detto Che comunque I ruoli sono fissi Non c'è così tanto Cambiamento Magari come hai detto Nel calcio Secondo voi Cioè È abbastanza fisso Come regola Come sporca Ok ci sono qualche modifica Regolamento Prenderlo magari Un po' più sicuro Un po' più falli Ma innovazione Proprio per modificare Il modo di gioco C'è spazio Sta cambiando C'è E c'è stato Soprattutto dall'anno scorso Giusto Il 5022 Ah no Te parli di regolamento O parli proprio di Come gioca la squadra Cioè di possibilità di gioco Ma guarda In realtà Anche tutti e due Se volete Dalla vostra Come regolamento C'è spazio Come regolamento C'è spazio Perché Già per esempio Dall'anno scorso Sono È stata Per rendere Il gioco un pochino Non più vivo Magari c'erano delle situazioni Un pochino più Più lenti In cui Macchinose Magari Esatto Macchinose Allora hanno inserito Un regolamento Che è il 5022 Quindi un calcio Che può andare a favore Di chi calcia In una posizione ottimale Che avvantaggia Un gioco più dinamico Quindi Questo è un esempio Quindi come dire Vedono che magari Qualcosa non funziona Magari Non è che non funziona Funziona tutto quanto Però a livello Magari di Che ne so Questa cosa l'hanno aggiunta Soprattutto a livello di spettacolo World Rugby Ha deciso di inserire Questo calcio Che poteva cambiare In realtà può cambiare Tranquillamente Le sorti di un'azione E quindi Ha dato più spunto E tante cose In realtà Dopo si basano su quello Cambia il modo di giocare Cambia il modo di giocare Quindi secondo me A livello di regolamento Sì C'è spazio Poi È da vedere Non lo devo dire io Ma come gioco Proprio Come gioco Sì Puoi I ruoli sono quelli Però ovviamente Anche in base Al tipo di giocatore Che tu metti in campo Puoi utilizzare Un tipo di gioco Oppure un altro Esempio molto semplice Io che sono Numero 10 E ho due giocatori Di fianco a me Che si chiamano Primo centro E secondo centro Se io di fianco a me Ho due bestie Di 120 kg Magari gioco con loro Gli passo la palla Loro vanno dentro Bim bum bam Si riprende la palla Si riprende la palla Si gioca Se magari Ci sono due veloci Che però Hanno Magari anche un buon handling Quindi hanno un buon passaggio E così Sviluppo un altro tipo di gioco Quindi in base anche ai giocatori Che metti in campo E ovviamente agli schemi E tutto quanto Puoi sviluppare diversi Tipi di giochi Basandoci sulle squadre Più forti Le nazionali Maggiori Il Sudafrica Che è una squadra Che generalmente è molto fisica Gioca molto sul fisico È predominante E vincere anche le partite Grazie a quello Poi ci sono altre squadre Che magari sono più leggerini Però Però Te lo mettono meglio Ah si può dire tutto Ti piace il Sudafrica Come squadra Lo gioco Il Sudafrica Sono Sono belli cazzuti Sono grossi Sono 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 sudafricani Non si niente da dire Sì sì Sono un altro pianeta Infatti Anche molti giocatori Spesso che giocano Anche magari In Scozia O Inghilterra Gare Spesso Continuano a giocare In quel modo E' nato in Sudafrica Perché lì c'è Ecco Lì se le danno veramente Lì secondo me Corono insieme ai leoni E se le danno sul serio Ottimo E Te sei a posto Io se vuoi No Sei a posto Sei sicuro Siamo riusciti a evitare La supercazzola Sulla morale del rugby Direi che siamo a posto E' stato carino Parlare un po' È una morale È una storia Il terzo tempo Il terzo tempo Il rispetto Dell'arbitro Dell'avversario Sì ok Vi ubriacate Alla fine Il rugby Vi ha fatto diventare Una decisione Delle persone Più rispettose Verso gli altri Pensate più al prossimo Andate a fare Beneficenza dopo Allora È la prima domanda Difficilissima Che vi facciamo Vai te Vuoi parlare Sprittiamoci le cose Prepara di rispetto Nel confronto Dell'arbitro Ok Mi piace Non c'è Non sei preparato No è che Io sono molto politico Su queste cose No Nel rugby Ad esempio Nel rugby A differenza magari Del calcio La regola che vige È che Tu non puoi andare A contestare l'arbitro L'arbitro può sanzionarti Se tu contesti Immediatamente A qualsiasi cosa C'è chi lo fa di più C'è chi lo fa di meno Però ecco Questo rispetto Dell'arbitro Ovvero delle sue decisioni Che siano giuste O sbagliate che siano Ovviamente devono essere Il più giuste Il più possibile Però giusto Che sbagliate che siano Tu non puoi andarli A contestare Se non Una domanda Di un capitano Ad esempio Un capitano Può arrivare dall'arbitro E chiedere Arbitro Ma questo fallo Per cosa è stato Ma il mio giocatore Può essere Che era Un passo indietro Nel fuorigioco Esempio Questo è il limite Di più L'arbitro potrebbe Dare questo Ovvero parlare O contestazione E dare dieci metri Per di spazio nel campo Questo Tantissimo Anche nel massimo livello Cioè Sono arbitri Che dicono Smettere di parlare Che sennò Ti caccio fuori C'è stata La famosa Di Nigel Owens Che Non mi ricordo Quale capitano Andò A contestare Un pochettino Una Una questione Nigel Owens È uno dei migliori È stato uno dei migliori Abiti Degli ultimi tempi Degli ultimi tempi Nazionale Ha detto Il capitano È andato a contestare E gli ha detto Una volta Qui non giochiamo a calcio E l'altra volta Invece tipo Il calcio gioca Settimana prossima Nell'altro stadio Tipo una roba del genere Sempre per il calcio Calcio In realtà la nostra È tutta invidia Perché voi avete Un sacco di squadre E ve lo guardate Quando volete Sono invidia la nostra Invece Tipo vabbè Duccio per adesso Parlate del rispetto Dell'arbitro Che è una cosa sacra Ma c'è anche rispetto All'avversario In campo Ce le si dà Fino alla morte Perché Le famose slappe Esatto Le famose slappe Dal primo all'ultimo minuto Non è pericoloso Però vi prego Tu devi vincere C'è il gioco sporco Il gioco pulita Devi vincere Quando finisce la partita Non c'è santo che tenga Devi stringere la mano All'avversario E ci si abbraccia anche Te la fai passare Più volte Di prendere dei pugni Dare dei pugni A giocatori A fine partita Abbracciare La partita è finita Quindi non c'è più niente Di cui litigare E poi alla fine della partita Dopo la doccia C'è il terzo tempo Che le due squadre Vanno Vanno a mangiare Nella clubhouse Della squadra che ospita E quindi Si mangia Si beve una birra assieme Poi dopo Si va a casa O si continua a bere O bebe Si continua a bere Con rispetto sempre Si continua a bere Con rispetto La supercazza No no Supercazza Sono stati bravi No no Madonna Io posso fare sempre La mia domanda Solita Fai la domanda Fai la domanda Vabbè Questa è copiata Da mosca selvaggio Vabbè Ma tanto Che la chiede sempre Fed Sto alla fine Non so se la sapete Sì No La risposta è no È una domanda Non saprei come rispondere Sì 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 La domanda è Se giocare a rugby Fa scopare di più Però In teoria Si può anche mediare Si può rendere più attraente Secondo Lance Sì Allora Il Lance È il nostro Si può dire Dio È il nostro Dio Si può dire Si può dire Siamo liberi Cioè È il nostro Sì È il nostro profeta Proprio Quando avevano 14 anni Ci ha preso sotto la sua ala E ci ha trasformato in uomini È un grande Con questa promessa Con questa promessa Con questa promessa È stato il primo giorno Sì sì Allora intanto Sei diventato giocatore di rugby Cioè Secondo me È uno snì Nel senso che Diciamo Il rugby Ti fa chiamare di più O ti dà Ti rende più Sicuramente Non so Ti fa le spalle larghe Magari sono alcune ragazze Che possono piacere Diciamo Che ci fanno anche un bel culo Aiutano con il fisico Aiuta con il fisico Prendiamo un sacco di botte in testa Quindi forse ci roviniamo Esatto Aumenta il fisico La testa Diciamo Prende qualche botta Ma non è un altro Il fascino delle sportive Abbiamo parlato un sacco Di distruggersi Ammazzarsi Non è vero Non è vero Non è vero No no Ho detto già di no Ecco Siamo una compilation di Duce Che diciamo Ma non è pericolosa Non avete paura Non avete paura di giocare Abbiamo parlato Dopo taglierò Di bicchiarsi Tutto quanto Le taglio tutte E le metto tutte insieme D'accordo No no Ma ci si picchia in amicizia Secondo le regole Secondo le regole Secondo le regole È il divertimento Sono le regole di ingaggio Eh Basti Rega via Eh sì Secondo le regole Sempre Bello questa domanda L'arbitro partecipa al terzo tempo? Sì 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 Cioè quindi si ubriaca con voi Spesso vengono da Modena Ah quindi sempre Ma accosto Prima di un piatto di pasta Si fanno una birra e vanno Però è capitato spesso Che rimanessero di fare delle chiacchiere O magari manca Sì Poi anche andare a chiedere Perché di una decisione Di un'altra Spesso sono tranquilli C'è il terzo tempo È sempre tutto in simpatia Anche Sono successe le peggio cose Sono finte miei Ma per esempio Gli arbitri Sono grossi Come i giocatori O Perché Tendenzialmente L'arbitro È una cosa un po' cattiva Però non sempre vera Tendenzialmente L'arbitro È chi Ha visto che Non riusciva magari A eccellere Come Come giocatore Allora hai detto Sai cosa Sono i giocatori falliti Mi piace comunque No Non è vero Non per forza Però Spesso è così Almeno nel basso È uno che vi piace il rugby Magari come giocatore Non è così In tutti gli sport Comunque Cioè Gli arbitri Nel calcio Sono tutti Sì Magari gli piace Basta Magica anche Basket Ma qualsiasi sport Poi non è Sì Non è detto Però Di solito Di solito Tendenzialmente Continuiamo a dire Sinonimi Della stessa parola In situazione Basta La sua domanda Chiudiamo Sì Vai Finisci Sono l'ultima Io di solito Vi faccio questo Non l'ho preso Da muschio selvaggio Scusate E Dopo Questa qui Vi chiedo Invece Nel vostro Percorso Formativo Formativo Di approccio A rugby Momento top E momento flop Cioè momenti In cui proprio avete detto Cavolo Ne è valsa proprio la pena Sto spaccando È una cosa che Cioè Tutta questa fatica Queste cose E il momento in cui hai detto Ma chi me l'ha fatto fare Cioè nel senso Guardo E mi sono ritrovato Prego Parto io Allora Io di momenti in cui hai detto Ma chi me l'ha fatto fare Mai avuti Realmente Magari qualche Pure quando hai incontrato Duccio Qualche capriccio Perché la squadra Non andava bene Quello è capitato Perché purtroppo Mi piacerebbe Allenarmi In 30 giocatori Tutti gli allenamenti Però capite anche voi Che non è sempre così facile E io che ci spendo Tanto tempo E tante energie Mi piacerebbe avere Spesso un ritorno Che magari a volte Non c'è E quindi quella È la parte Però è un po' Una costante Non mi ci sono abituato Momento Momento top Una volta flop Una volta che proprio hai detto Non so Un infortunio Una cosa Non so che ti sei tirato giù No gli infortuni Invece ti fanno venire La voglia di tornare a giocare Almeno quello che ho sempre visto io Cioè te ti rompi Dici non vedo l'ora Di tornare a giocare Cioè da noi Chi si è rotto Si è tolto il gesso Sabato scorso Due giorni dopo Era lì in campo Che faceva Che si allenava Ma immagino Non so E invece è il momento Magari in cui ti furi Dici ok Cavolo Mi devo fermare E non posso giocare Tipo il covid Ma quello Quello magari succede A chi Chi magari ha avuto Più di infortuni O che continua A dargli problemi Almeno Io non ho sentito così Chi In infortuni Di continuare a dare problemi Oppure che ha una Che ne so Ha una determinata età Inizia a dire Cavolo Inizia a avere sempre Più piccoli infortuni Poi ripeto Non sono Non sono I miei I dolori dell'unedì Sono sempre più forsi Esatto Cioè l'unedì Siamo dei cadavri Perché avete perso la parentesi A rugby Fino a che età Si riesce a giocare 42 Cioè anche dopo Però il campionato Prevede fino al 42 Ah c'è un limite Il limite di campionato È 42 Ah c'è proprio il limite Questo in Italia Il resto del mondo È libero Tipo il nostro Il nostro ex capitano Lui ha smesso di giocare Per un limite d'età Ma era in forma Come un 35enne Perché lui facendo il pompiere Come mestiere Sempre in forma Però lui purtroppo Per il limite d'età Dove non smette di giocare Ma vada Però è brutto Cioè nel senso È brutto E forse per un motivo di salute Cioè che dopo Però che Non lo so Forse perché hanno Paura che dopo Una determinata età Gli infortuni Possono essere più Irreversibili Spessi Irreversibili Sì perché Dovrei fare dei test fisici Abbiamo parlato Non ci si infortuni Infatti non è tra i momenti flop Di Sancho Anzi Gli infortuni sono i momenti top Sono i momenti top Bella Non so se è una cosa può Il momento top per ora E perché sono sicuro Che sia un per ora È stato Insieme a Duccio E Dalla regia Il signore qua Che ci guarda Non ha vinto Insieme a noi Il campionato Non è giovanile Andare 18 Il campionato regionale E per Bainzareghi Squadra di Poveracci È stato Un ex-ploi importante Al tempo Era una squadra di Poveracci È stato Un ex-ploi importante È stata una gran vittoria E E' portato alto Il nome del Feltereghi Esatto Per un anno È stato Una bella annata È stato Il top per ora Il momento più alto Della nostra squadra Era ancora in giovanile Purtroppo Però adesso si vedrà Dai Il momento flop Non ne ho uno preciso Nel senso che Il momento flop Potrebbe essere Un Magari Uno degli anni scorsi Che Tra il covid E Quest'anno Ho dovuto Lavorare tantissimo Per Per la squadra Perché mi volevo Impegnare tanto A livello di Tutto Tutto E quindi Ogni tanto che avevo Talmente tante cose da fare Per mie E Inoltre Raggiungerci quelli del rugby Che mi sentivo di fare Di voler fare Per migliorare tutto quanto Ogni tanto era un Palle Non c'ho voglia di fare Sta roba Però Successivamente Immediato Veniva il momento top Che era Gli allenamenti E la partita Cioè Tu Adesso Non so Non avendo mai giocato ad altro Oltre che rugby Io Sogno Tipo durante le giornate Di fare partite Perché Le partite sono il momento top Qualsiasi Poi magari anche Stanto una partita Che hai giocato bene Per me È un po' filosofica la cosa Però Molto romantica Esatto È molto romantica Ci stavamo un po' Emozionando tutti Però Sinceramente Il momento top Non ho Magari Sì Ho il ricordo Chiaramente Della vittoria del campionato Però Ci sono tante partite In cui Solo Soddisfazioni E Quelle sono tutte Momenti top Molto generiche Molto romantiche Lo so Però Beh ci sta Per me Per esempio Quando giocavo Veniva in primis Ok la squadra Però io sentivo tantissimo Se io avevo giocato bene Se io avevo giocato male Sentivo di aver contribuito Alla Partita O magari Sentivo di Non aver dato il passo Nonostante magari Vincevamo anche La partita importante Io per esempio Fino all'anno scorso Per qualche anno Ho sentito Per qualche anno Ho sentito molto La squadra è basta Mentre Da quest'anno Con la consapevolezza Che sento la squadra Sento anche Faccio un po' Un mix In questo momento Puoi sapere Chiudiamo con questo No Non finiamo con questa Sì sì Noi chiudiamo qui Chiudiamo così La taglieranno E la metteranno In loop Un paio di volte Lo mettiamo all'inizio Del video Così la gente Scappa Vi ringraziamo I nostri ospiti Ringraziamo anche Il Fence Rugby Esatto Vi aspettiamo Una domenica Qualsiasi A vederci al campo Magari anche voi due Dove giocate Perché magari Giochiamo Alla Graziola Il campo Quello più in fondo Diciamo Quello più verso Celle Ottimo Graziola Voglio finire con questo Amleto tu no Paolo Amleto tu no Perché non giochi a rugby Finiamo con Un reclutamento Le parleremo poi Ciao Rispondo nei commenti